è ora di cambiare la batteria a questo vecchio catorcio e vabbè e voglio dire hai una certa età ma cosa perché tutto questo ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video il protagonista del video è questo vecchio catorcio e direi anche dispettoso la mia pazienza ha un limite perché dispettoso? cosa ha combinato? ora vi racconto come abbiamo visto in un video ad agosto era stato donato da Alfredo Spagnolo iscritto al canale che saluto il computer monta un Pentium 4 da 3.2 GHz Prescott accompagnato da 2 GB di RAM DDR l'avevo iniziato a preparare per un video che sarebbe stato poi quello che sarebbe uscito questa domenica e avevo montato su questa scheda video un Atiradeon 9800 Pro 256 MB che avevo installato XP e poi anche altro che mi occorreva poi mi è arrivato questo pacco che conteneva un mega dissipatore Insight Infinity guardate le dimensioni in confronto a un controller per Xbox 360 poi qui confrontato con una tazza di crash ed infine il confronto con una mela e perché questo mega dissipatore? perché il Pentium 4 senza far nulla arrivava anche a 63-64 gradi nonostante gli avessi cambiato anche la pasta termica con la mia Arctic ecco qui il risultato finale guardate come spicca il dissipatore all'interno del case il risultato è incredibile più di 10 gradi in meno sia a chiesa chiuso che a chiesa aperto ed inoltre i dissipatori così buoni come questo per Socket 478 in giro, almeno per quel che ho potuto vedere, se ne trovano pochi si trovano molti i dissipatori Intel di base oppure altri dissipatori più di base e più semplici come questo Titan che era montato e che ho rimosso e questo è il confronto tra i due dissipatori già guardando le dimensioni si può capire che non c'è storia fatto questo mi ero messo a risolvere un problema ovvero la mia scheda di acquisizione non acquisiva i segnali video che provenivano dal computer il computer era acceso e all'improvviso schermo nero pensavo quindi allo stand by ma premendo i pulsanti della tastiera e del mouse niente facendo però un controllo mi ero accorto che un cavo dell'alimentatore bloccava la ventola del dissipatore non so come abbia fatto comunque alla fine sblocco la ventola accendo il computer e il risultato è computer acceso non accade nulla ventola che gira e nessun VIP la buona notizia arriva quando faccio un test senza RAM e la scheda madre fa ciò vuol dire che la scheda madre è viva anche senza scheda video altri quindi rimonto la scheda video e di nuovo nulla nessun VIP e schermo nero inizio allora a sospettare della 9800 Pro e anche la frustrazione iniziava a salire ormai il video era a rischio in quanto il computer non voleva sapere di collaborare monto quindi la scheda video che c'era in origine ovvero la GeForce MX4000 e invece con lei il pc parte se da un lato era una buona notizia dall'altro sembrava che il video che stavo preparando e che avevo in programma ormai fosse completamente esaltato e a quel punto mi chiedevo può essere la 9800 Pro la fonte dei problemi? avevo ormai quasi accettato ciò e invece la rimonto e il pc parte quindi alla fine sembrava soltanto un dispetto ormai superato e invece Windows XP non ne voleva sapere di partire neanche con la modalità provvisoria poi è riuscito a partire quindi provo la modalità provvisoria col prompt dei comandi viene quindi prenotato un controllo del disco successivo a bio ma questo controllo non c'è stato Windows XP non arriva a farlo mi ricordo del cd di installazione di Windows XP che permette di ripristinare il sistema ecco quindi che provo qui ad accedere all'installazione e boom schermata blu roba da matti incredulità davanti a tale ostinazione del computer a mettermi i bastoni tra le ruote tutto questo solo per averlo chiamato vecchio catorcio penso ad un'altra possibile soluzione e mi viene in mente l'irends boot cd che contiene un mini xp con il quale poter fare uno scan disc il risultato? il mini xp non si avvia prova a cambiare il cavo i dal masterizzatore dvd e il risultato non cambia preparo poi un floppy bottabile ms dos ma il floppy drive mi sa che è rotto il floppy non entrava l'ultima carta che mi gioco è quella di prendere l'hard disk montarlo sul computer che uso per i test e con Windows 10 oppure Windows 11 fare un controllo del disco all'avvio Windows 11 fa il controllo del disco poi ne faccio uno con Windows 10 dopo un po' ecco il risultato e tutto è ok rimonto l'hard disk ma niente il problema persiste prova ad andare in modalità provvisoria penso a un qualcosa che ha a che fare con il driver a questo punto Windows xp riesce questa volta a partire in modalità provvisoria ma non vanno dei mouse e né tastiera riprovo di nuovo ma questa volta il pc si riavvia con tanto di errore alla scheda video e tanti ormai delirio totale reinserisco il cavo di alimentazione alla 9800 Pro il pc parte ma comunque xp non va prova ad avviare xp con la GeForce MX 4000 e neanche con lei va conclusione è accaduto di tutto roba da dare testate contro la porta e alla fine in questo momento sta vincendo lui chiaramente non è finita qui quel che proverò a fare ad esempio è reinstallare Windows xp perché può essere che semplicemente si è corrotta l'installazione è incredibile era tutto pronto bello funzionante e invece alla fine mi ha fatto proprio un bel dispetto e pensare tutto questo solo per averlo chiamato vecchio catorcio scrivete e commentate ditemi la vostra di questa avventura nel cercare di risolvere il dispetto che mi ha fatto questo vecchio catorcio e se avete anche suggerimenti di test per provare e vedere di riuscire a farlo ripartire e io l'ho chiamato vecchio catorcio ma in un futuro video se e quando lo avrò riparato vi dirò e vi farò vedere anche perché secondo me non è proprio un vecchio catorcio io vi saluto ciao allora ti sei divertito? che pazienza che ci vuole grazie a tutti